Ciao a tutti, molti di voi mi hanno chiesto di fare un video riguardo al tema dei figli di un narcisista. Come facciamo se il nostro partner è un narcisista e abbiamo dei figli in comune? Come facciamo a proteggere i nostri figli dall'influenza del genitore narcisista e a prevenire che subiscano dei forti danni? Beh, la risposta che sto per darvi forse non è esattamente quello che vi aspettavate, ma è dal mio punto di vista la soluzione per gestire questo problema. Innanzitutto, per poter capire qual è il danno che il genitore narcisista può fare ai propri figli e quindi cosa fare per prevenire questo danno, dobbiamo capire come appunto il narcisista traumatizza i propri figli. Prima di tutto, premetto che le persone hanno inerentemente una capacità naturale emotiva di superare qualunque situazione difficile o circostanza difficoltosa in cui si può trovare. Infatti, se ci troviamo in una situazione difficile, come per esempio, per dare un esempio molto classico, la perdita di una persona, il nostro corpo emotivo è fatto per processare questo evento per permetterci di continuare a vivere serenamente e andare verso la nostra felicità. Ad esempio, se muore qualcuno a cui vogliamo bene, sentiremo il dolore della perdita, che è un'emozione molto naturale dovuta alla perdita di qualcosa, di qualcuno importante nella nostra vita, e processando, lasciando fluire questo dolore di perdita, dopo un po' l'emozione verrà processata, verrà rilasciata, liberata. Il nostro animo, quindi, si trasforma per adattarsi alla situazione nuova dove questa persona non è più presente e possiamo quindi procedere con la nostra vita in serenità. Il problema, quindi, contrariamente a quello che comunemente si pensa, non è tanto il fatto che si presentano delle difficoltà nella vita, una cosa del tutto naturale, visto che la vita è in continuo cambiamento e si presentano continuamente degli imprevisti. Ma è l'inabilità di percorrere questo naturale processamento delle emozioni. E come mai perdiamo questa abilità? Nella società attuale ci viene insegnato a evitare le emozioni negative, a stigmatizzarle come qualcosa di sbagliato, qualcosa di erroneo. E quindi, quando ci troviamo in una situazione difficile e sentiamo queste naturali emozioni negative che sono lì per permetterci di processare la situazione e di affrontarla, anziché lasciare fluire questo naturale scorrere delle emozioni che porta alla guarigione dell'effetto dell'accaduto, blocchiamo questo naturale scorrimento. Lo blocchiamo, ad esempio, cercando di evitare di bloccare le emozioni negative. Per esempio, durante la perdita di qualcuno, prendiamo degli antidepressivi, in modo da non sentire questa naturale emozione negativa che ci permette di processare e di gestire l'evento. Oppure ci diamo all'alcol, oppure ci distraiamo in altri modi. Comunque facciamo sì da evitare queste emozioni. E è così che si crea un trauma. Un trauma non è altro che un'emozione che non è stata processata, a cui non abbiamo permesso il naturale passaggio e scorrimento per poter andare allo stadio successivo dove possiamo proseguire serenamente con la nostra vita, e quindi rimaniamo bloccati in uno stadio di questo procedimento senza permetterci di andare avanti. Ad esempio, la persona a cui non viene permesso di processare la perdita di qualcuno, il naturale flusso di queste emozioni, magari si blocca nello stadio del dolore di questa perdita, oppure si blocca nello stadio della rabbia di questa perdita, a seconda di quando decide di non processare più le sue emozioni negative, di non permettere l'espressione, il flusso di queste emozioni, e di non lasciarle scorrere. A quel punto si è creato un trauma, ovvero il naturale scorrimento delle emozioni che ci permette di guarire, di andare avanti con serenità, viene bloccato, e siamo bloccati nel tempo, letteralmente, non ci permettiamo di andare avanti. La sofferenza quindi non è tanto causata appunto dalle difficoltà che si presentano nella nostra vita, ma da questa nostra abitudine ad evitare le emozioni che risultano da queste difficoltà, anziché processarle per poter affrontare la situazione, guarire dall'evento successo e poter continuare la nostra vita serenamente. Quindi, quando un bambino cresce con un genitore narcisista, e come ho già menzionato in passato, i genitori narcisisti trattano i loro figli come degli oggetti sostanzialmente, così come trattano tutte le altre persone. E di solito si distinguono in due metodi, o trattano i propri figli come provvigionamento narcisistico, e quindi come estensioni di sé, come praticamente dei trofei, oppure come un fastidio, qualcosa di cui liberarsi. A seconda della gravità di come il genitore narcisista tratterà i figli, i figli poi diventeranno a loro volta narcisisti, oppure codipendenti, borderline, oppure un misto di diversi disturbi. Ma perché il narcisista fa questo effetto ai propri figli? Beh, perché ovviamente non considerandoli delle persone a sé stante, delle persone umane, con dei loro bisogni, dei loro diritti, dei loro desideri, il narcisista non soddisferà, non considererà i bisogni, i desideri dei propri figli, e anzi li trascurerà, li supprimerà per soddisfare i propri, e in alcuni casi li ignorerà completamente. Come avevo menzionato, i bambini sono come dei boccioli che devono crescere, e per la crescita ovviamente hanno diversi bisogni che devono soddisfare. Ci sono bisogni fisici, che sono quelli più ovvi, quelli come mangiare, dormire e vestirsi. Poi ci sono i bisogni emotivi e i bisogni intellettuali, che sono meno ovvi, meno conosciuti, ma altrettanto essenziali per lo sviluppo della parte emotiva e intellettuale del bambino. Alcuni di questi bisogni sono, ad esempio, il bisogno di essere ascoltati, di essere capiti, di essere accettati, di essere incoraggiati, di essere sostenuti, il bisogno dell'affetto del genitore, il bisogno dell'attenzione del genitore, e il bisogno di vari stimoli. Ma cosa succede quando il genitore narcisista non soddisfa e ignora alcuni di questi bisogni, oppure anche tutti questi bisogni? Il bambino, purtroppo, non potendoli soddisfare in altro modo, infatti il bambino dipende completamente dai propri genitori, sarà costretto a sopprimere questi bisogni, a non soddisfarli, e a sopprimere quindi, a bloccare quindi la propria crescita, soprattutto quella intellettuale emotiva. Infatti di solito sono quelli i bisogni che vengono più soppressi. Ad esempio, per fare un esempio banalissimo, mettiamo che il bambino è molto piccolo, ancora in fasce, quindi non può parlare e ha fame. Il bambino, quando ha fame, naturalmente piange, perché non ha alcun altro modo di esprimere il suo disagio. Questo suo disagio, questa emozione negativa, questa sensazione negativa che sente, esprime il suo bisogno di mangiare, ed è essenziale per fargli soddisfare il suo bisogno. Ma se, ad esempio, il genitore narcisista in questione tratta il bambino come un fastidio, allora lui sarà infastidito dal suo pianto. E dato che non gli importa nulla della fame del bambino, perché non ha nessuna empatia, quindi compassione per le altre persone umane, l'unico suo obiettivo è quello di far smettere il pianto. E magari per fare ciò, andrà dal bambino e inizierà a urlargli addosso, o a punirlo, a fargli anche del male. In questo modo, il bambino, non avendo alcuna altra possibilità per sopravvivere, sarà costretto ad internalizzare l'idea che quando ha fame non deve esprimerlo, non deve piangere, perché esprimerlo è sbagliato e quindi non è permesso esprimerla. Quindi reprimerà la sua capacità di esprimere questo bisogno e questo ovviamente più avanti gli causerà dei grossi danni nutrizionali, perché non potendo esprimere quando ha fame non andrà a soddisfare questo bisogno in maniera consistente. Questo è un esempio molto banale, molto ovvio, però ce ne sono tantissimi meno ovvi. Ad esempio, un bambino potrebbe sopprimere la propria rabbia o la propria creatività o il proprio desiderio di esprimersi o il proprio bisogno di affetto e tante altre cose. Tutte queste parti che vengono represse quindi sono delle emozioni che non hanno il permesso di processare. Queste emozioni non vengono processate, vengono represse e di conseguenza viene represso anche il bisogno associato a queste emozioni e il bambino cresce con delle parti di sé con delle gravi carenze, quindi delle parti di sé che non possono essere sviluppate a livello adulto e che rimangono allo stadio infantile. Di solito queste sono soprattutto le parti emotive. Da qui a origine il famoso metodo per risolvere i traumi che ho spiegato in diversi video. Infatti, se il trauma è semplicemente un'emozione che viene repressa non permettendo lo sviluppo emotivo o di altro tipo del bambino, per risolvere questo trauma bisogna andare indietro nel tempo a riprendere l'episodio dove questa emozione è stata repressa per poterla rilasciare quindi processare nella maniera naturale che spiegavo prima in modo che la parte, diciamo, infantile possa processare questa emozione e continuare la propria vita andando avanti per ritrovare serenità anziché rimanere bloccata nel tempo. Purtroppo, crescendo con un genitore narcisista molti bisogni vengono soppressi in maniera cronica creando appunto dei traumi cronici e questo fa sì che il bambino non potrà sviluppare alcune parti emotive di sé e rimarrà nello stadio infantile su tanti aspetti di sé e quindi più avanti avrà dei disturbi potrà diventare lui stesso narcisista oppure borderline o codipendente o anche un misto tra questi vari disturbi. Quando abbiamo un genitore narcisista questo si può paragonare in un certo senso ad una calamità, ovvero una difficoltà di vita costante e molto grave. In un certo senso può essere visto un po' come crescere vicino dei tornadi. Dei tornadi... Perché uso questa metafora? Perché il narcisista sostanzialmente si comporta nel modo in cui si comporta perché quella è la sua natura è fatto così. Un po' come un tornado si comporta come un tornado perché quella è la sua natura è distruttivo per natura. Sarebbe assurdo aspettarsi qualcosa di diverso da un tornado e lo stesso sarebbe aspettarsi qualcosa di diverso da un narcisista. Se cresciamo in una situazione di grande difficoltà come facciamo a superare la cosa? Quindi prendendo l'esempio dei tornadi se cresciamo appunto in una zona con dei tornadi come facciamo a superare questo? Beh, se abbiamo intorno a noi delle persone che ci danno tutti i bisogni di cui abbiamo bisogno quindi emotivi, intellettuali, fisici allora possiamo superare ogni cosa usando appunto il nostro naturale procedimento delle emozioni che descrivevo prima. Quindi per questo un bambino anche se si trova ad affrontare delle situazioni molto difficili durante la sua infanzia questo non significa necessariamente che debba essere traumatizzato. Se ha delle persone vicine che gli danno supporto appoggio emotivo che gli soddisfano i suoi bisogni e che lo fanno sentire amato ascoltato e nutrito allora lui può elaborare naturalmente le emozioni che sente scorrere dentro di lui e procedere con la sua vita serenamente senza rimanere bloccato nei traumi. E quindi si può fare un'analogia per cui lo stesso vale anche col crescere con un genitore narcisista ovvero il fatto che cresciamo con un genitore narcisista di per sé non deve per forza essere motivo di traumi ma è perché in qualche modo non ci viene permesso di processare quelle emozioni che sentiamo a causa non solo della nostra naturale crescita ma in più anche della presenza di questo genitore. E qui vorrei arrivare al punto alla risposta alla vostra domanda che penso non sarà esattamente quello che vi aspettate ma vi darò una spiegazione a riguardo. Dal mio punto di vista il problema riguardo alla crescita dei figli con un genitore narcisista non è tanto il fatto che crescano con un genitore narcisista quello è sicuramente il fattore necessario ma non è tutta la storia. infatti è il fatto che crescono con un genitore narcisista e con un genitore codipendente. Cosa intendo dire con questo? Adesso vi spiego. Come dicevo il genitore narcisista ovviamente fa mancare molti bisogni ai figli ma se vicino al genitore narcisista ci fosse un genitore che è completamente emotivamente maturo e quindi presente quindi in grado di dare amore incondizionato al proprio figlio quindi essere presente con tutti i suoi bisogni affettivi emotivi intellettuali il bambino dovrebbe comunque poter riuscire a crescere processando tutti i suoi vari bisogni anche nonostante la presenza di un genitore assente. Cos'è quindi che rende veramente così traumatica la situazione? Il fatto che ci sia anche un genitore codipendente oltre al genitore narcisista fa sì che da una parte il genitore narcisista non soddisfa i bisogni emotivi del figlio ma dall'altra il genitore codipendente senza rendersi conto appoggia questa mancanza. Il genitore codipendente permette gli abusi le mancanze di rispetto le mancanze di riguardo di considerazione le mancanze di empatia di compassione del genitore narcisista infatti per quello è in un rapporto con tale genitore. Il genitore codipendente non avendo amore verso se stesso non avendo rispetto verso si stesso non avendo considerazione verso di sé e i propri bisogni e la propria felicità ovviamente non potrà avere la stessa considerazione neanche per i propri figli e ovviamente tutto questo avviene senza che se ne renda conto. La buona notizia in questo è che se il genitore codipendente ha un ruolo così fondamentale nella crescita del figlio questo vuol dire anche che il genitore codipendente ha un grande potere di risvoltare completamente la situazione e far sì che il bambino non venga danneggiato dal genitore narcisista e come può fare ciò? Semplicemente non tanto facilmente ma semplicemente guarendo dalla sua codipendenza. Infatti man mano che il genitore codipendente impara ad amarsi a rispettarsi a sentire i propri bisogni e le proprie necessità i propri desideri e supera tutti quei traumi che non gli permettono di essere una persona del tutto consapevole e del tutto piena di amore anche verso i suoi figli in questo modo il genitore codipendente diventerà quell'appoggio di cui i figli hanno bisogno per poter superare i traumi anche causati dal genitore narcisista. Se vogliamo migliorare la nostra vita ritrovando serenità felicità amore e gioia e anche migliorare quella dei nostri figli la soluzione è sempre quella ovvero dobbiamo lavorare su noi stessi guarendo la nostra codipendenza imparando ad amarci a sentire quindi i nostri bisogni i nostri desideri la nostra volontà e rispettare questi bisogni a sentire le nostre emozioni e a permettere appunto il naturale passaggio delle nostre emozioni anziché bloccarle e guarire i nostri traumi oltre a questo ovviamente un'altra cosa che possiamo fare è dare un appoggio in più ai nostri figli soprattutto mentre noi siamo nella fase di guarigione e siamo ancora all'inizio quindi siamo ancora molto codipendente può aiutare il fatto di avere delle altre persone di sostegno anche per i nostri figli delle persone che sono già ad un livello di amore verso se stessi maggiori e quindi sono più in grado di dare ai figli il supporto e l'appoggio di cui hanno bisogno in ogni caso voglio darvi un'altra ottima notizia se voi state guardando questo video e quindi siete preoccupati per i vostri figli e siete veramente genuinamente interessati al danno che il narcisista può fare ai vostri figli e vi preoccupate del loro benessere e della vostra felicità vuol dire che già siete sulla buona strada perché già il fatto che siete consapevoli di questo e che vi state prendendo la responsabilità verso di essi vuol dire che già state facendo moltissimo per loro e quindi già siete su un'ottima strada per poter dare a loro amore e compassione e quindi gli strumenti necessari per superare i traumi che vengono creati dal genitore narcisista già il fatto che avete questa grande voglia di aiutare i vostri figli dimostra che avete un grande amore verso di loro e questo dimostra che avete già una grande capacità di amare e questa capacità di amare sarà la vostra guida che vi guiderà verso la vostra guarigione e quindi anche verso il sostenimento e l'appoggio emotivo ai vostri figli per poterli aiutare a guarire insomma avete già imboccato la strada giusta è solo questione di prendere gli strumenti necessari per la vostra guarigione e di trovare l'appoggio necessario da dare a voi stessi e i vostri figli con questo è tutto spero di aver risposto in maniera chiara ed esaustiva alla vostra domanda se avete delle domande dei dubbi a riguardo o volete anche farmi dei commenti siete ovviamente liberi di scrivere qui sotto sono sempre felice di leggere il vostro feedback a riguardo e anche se avete delle altre idee magari a cui io non ho pensato o pensate che ci siano delle soluzioni migliori siete ovviamente sempre liberi e benvenuti di scriverle qua sotto con questo tutto come sempre vi saluto vi auguro una bellissima giornata e alla prossima ciao ciao